Quando cadi o ti rialzi o rimani giù. L'handboard lo correlo molto alla vita perché non è semplice, da fuori lo sembra. Bisogna impegnarsi tanto, bisogna fare tanta pratica, bisogna a volte anche rompersi le scatole facendo sempre la stessa cosa perché non ti viene bene. Quando ho qualcosa da sfogare prendo la mia tavola e vado ai logo. Grazie.